Ciao, sono Andrea Castrignano e questo è il bonsai dell'Hunlights. Quest'anno il design ha deciso di scendere in campo e io ho deciso di disegnare un vaso per la lotta contro l'HIV. Dal 3 all'11 di dicembre diventa tu e il tuo negozio di arredamento protagonista per la lotta contro l'HIV. Diventa amico dell'Hunlights e il suo bonsai. Cosa ti chiede l'Hunlights? Semplice! Aderendo all'iniziativa riceverai un kit di 8 bonsai da offrire ai tuoi visitatori a fronte di una piccola donazione di 25 euro ciascuno. Oppure potrai decidere di regalarli tu ai tuoi clienti e compiere così un doppio gesto di solidarietà. Hai tempo fino al 6 novembre per aderire a questa iniziativa. Che aspetti? Vai sul sito dell'Hunlights. Ciao!